ciao a tutti ragazzi e benvenuti nell'ultima puntata di libri che parlano e lo so lo so lo so è una brutta notizia mi dispiace mi dispiace tantissimo ma oggi è l'ultimo giovedì di aprile e dobbiamo chiudere questa serie vi spiego anche i motivi o meglio la notizia è stata data quindi se volete potete chiudere il video salutaci ciao è stato bello ma se volete sapere qualcosa di più restate ancora con me un paio di minuti anche perché parleremo di un paio di cose interessanti allora motivo della chiusura come ho detto nei primi video questa è una serie temporanea perché man mano che si avvicina l'estate il carico di lavoro diventa sempre maggiore perché stiamo aprendo come sicuramente saprete stiamo aprendo il mini golf e arriveremo anche a questo e quindi più si avvicina l'estate più sarà difficile continuare a fare due video la settimana naturalmente finita l'estate quindi con una certa riduzione del carico di lavoro cercheremo di ricominciare questa bellissima rubrica che vi ricordo è nata per la mia esigenza di volermi confrontare sui libri che ho letto ho ascoltato e infatti questa è stata per me una cosa fantastica perché io non ho mai avuto abbastanza tempo per leggere libri non arrivavo a fine giornata stanco non c'avevo il tempo di leggere poi c'è anche da dire una cosa se tu leggi a letto prima di addormentarti succede questo ancoraggio psicologico per cui la lettura ti stimola il sonno quindi più leggi a letto prima di addormentarti più quando leggi ti viene da dormire diventa un ancoraggio mentale quindi rallenti ulteriormente la tua capacità di leggere libri libri si dovrebbero leggere di pomeriggio quando non hai niente da fare su una poltrona con comodo eccetera cosa che pochissimi hanno la possibilità di fare e quindi in questo viene in aiuto audible che ripeto non mi sta pagando anzi se conoscete qualcuno in audible diteglielo guarda questo sono mesi che parla di audible ne parla bene dagli dei soldi fatemi sta cortesia perché fanno comodo fanno comodo e quindi l'audiolibro è la soluzione migliore perché tu puoi ascoltarlo mentre fai altro mentre fai le faccende di casa mentre cucini mentre lavi i piatti mentre guidi mentre stai preparando nel mio caso uno stand al comics per esempio siamo stati di recente al comics di marsala anzi vi dico il video qua sopra se volete vederlo è stata una bellissima esperienza e anche lì mentre uno montava il video mentre mentre eri impegnato a fare altro potevi con le cuffie ascoltare un audiolibro io quest'anno da quando ho fatto ho fatto l'abbonamento ad audible cioè praticamente a ottobre novembre ho letto qualcosa tipo 40 libri 40 ho letto ho ascoltato 40 libri ragazzi cioè è veramente una cosa bellissima cioè io per leggere 40 libri ci avrei messo 3 4 anni invece li ho letti in sei mesi è una cosa stupenda ve lo consiglio vabbè sto parlando troppo di audible scusatemi ma sono questo è l'entusiasmo che mi trascina quindi andiamo alle cose più concrete in quest'ultimo video prima della pausa estiva voglio dirvi un'ultima cosa e cioè darvi un consiglio su dove trovare altri audiolibri che non siano necessariamente audible quindi questo video magari a quelli di audible non glielo fate vedere che poi ci perdo la sponsorizzazione però la cosa importante da sapere è questa che gli audiolibri si trovano anche in altri posti anche gratuitamente quindi vi consiglio di andarli a cercare io ho ascoltato tantissimi audiolibri anche al di fuori di audible e voglio consigliarvi alcuni di questi canali che sicuramente conoscete già però magari non ci avete pensato a cercare gli audiolibri proprio lì allora per primo primo di tutti vi voglio consigliare youtube dai questo era facile su youtube trovate tantissimi audiolibri l'unica pecca è che non sono letti da attori o doppiatori professionisti o meglio qualcuno anche sì ma la maggior parte dei canali che trattano audiolibri su youtube sono di solito di persone che o sono attori e doppiatori emergenti cioè alle prime armi e quindi fanno queste letture per allenarsi o sono di privati cittadini a cui magari piace quel libro e lo vogliono leggere capite bene che il livello di professionalità non può essere come quello di pannufino che legge harry potter ne cito uno per tutti senza nulla togliere a tutti gli altri doppiatori tutti bravissimi doppiatori attori bravissimi però su youtube la qualità non è quella di audible magari dovete riuscire a trovare quello che più vi piace in mezzo a tanti magari un po meno perfetti comunque vi consiglio di farlo io ho ascoltato tantissime cose stupende ad esempio il ciclo completo della fondazione la fondazione o meglio la quadrilogia completa della fondazione perché fondazione in realtà è fatta da oltre 15 oltre no da 15 libri in totale non sto a dirvelo quando parleremo di isaac asimo vi spiegherò tutto il ciclo della fondazione che parte da il robot dal ciclo dei robot e mette insieme tutti gli altri cicli fatti da asimo guarda vi faccio vedere libri di asimo sono questa fila qua la fila qua sono tutti libri di asimo vedete io ce lo praticamente tutti manca qualcosina purtroppo ma asimo stupendo vince su tutto e quindi vi dicevo ho trovato questi libri molto ben fatti ma ascoltato di tutto da sherlock holmes camilleri sciascia e ho trovato veramente qualsiasi cosa platone socrate socrate che non ha scritto libri lo sapete ma non mi voglio dilungare perché potete parlare ore ore quindi vi dico vi voglio giusto consigliare un canale un canale il rugo si chiama il canale che è un ragazzo bravissimo con una voce stupenda molto bravo mi è piaciuto che ha letto il ciclo di dune o meglio lo sta leggendo ha finito il libro ha iniziato quelli successivi e pian piano mi auguro che ci arrivi completerà tutta la saga c'è anche da dire che dune è presente anche su audible solo che io non l'ho ascoltato non so quindi non posso fare un paragone magari quello di audible ancora più bello più bravo non lo so io il rugo l'ho apprezzato tantissimo anzi lo saluto e lo ringrazio veramente una grande esperienza secondo sito che consiglio anche questo gratuito è rai play rai play su replay trovate tantissime cose naturalmente trovate film serie tv di proprietà della rai un archivio stupendo enorme gigantesco ma trovate anche una sezione dedicata all'audio e è un po complicato perché purtroppo come quasi sempre succede con le cose pubbliche sono fatte un po così diciamo l'ottimizzazione non è proprio il loro forte però se cercate bene trovate tante cose purtroppo sono un po frammentate fra vari siti vari nomi perché mi spiego un attimo allora in realtà il canale principale dovrebbe chiamarsi rai play sound ma all'interno di rai play sound non trovate tutto 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 alcune cose le trovate sul canale di rai play 3 canale 3 e radio 3 scusate quindi rai play radio 3 che c'ha una sua rubrica che si chiama ad alta voce quindi magari alcune cose le trovate sotto rai ad alta voce oppure altre le trovate su il terzo cerchio che è un'altra serie di audiolibri insomma un po sparpagliati però con un po di pazienza anche lì ne ho letti tantissimi ho letto alice nel paese delle meraviglie e cuore di tenebra e arancia meccanica stupendo il libro di arancia meccanica stupendo bello il film è bello il libro magari un giorno ne parleremo in video apposito però se proprio ne voglio consigliare uno vi consiglio sandokan sono tutti molto belli perché la rai grande professionalità anche lì attori o doppiatori professionisti insomma lettori di un certo livello quindi sono tutti infatti benissimo però personalmente voglio consigliare sandokan perché fa parte un po della mia infanzia sandokan io sono molto legato allo sceneggiato con kabir bedi e vabbè eccetera comunque sandokan di emilio salgari vi faccio presente questi sono tutti i libri di emilio salgari che quale le tigri di montra c'è il numero uno fuori fuori inquadratura ovunque purtroppo questa collezione non è completa mi mancano i numeri dall'ottanta in poi chissà magari un giorno la completerò questa l'avevano iniziata i miei genitori negli anni 60 70 e per concludere vi voglio suggerire i siti che si occupano di podcast perché all'interno dei podcast ogni tanto ci sono anche degli audiolibri o anche se non sono audiolibri magari trovate comunque materiale letterario ad esempio dramatizzazioni di libri di storie di racconti eccetera ad esempio una volta ho trovato una dramatizzazione molto carina del nome della rosa quindi non è la lettura vera e propria del libro che c'è in podcast c'è su youtube ma trovate come se fosse uno sceneggiato con le voci le cose che succedono dura anche di meno dura due ore mentre la lettura del nome della rosa dura tipo 12 ore una cosa del genere quindi un paio d'oro e riassunta la storia del nome della rosa molto carino molto simpatico ve lo consiglio se lo trovate molto interessante quindi siti di podcast come ad esempio amazon music amazon music che uno dice vabbè amazon music sarà audible che di amazon no in realtà sono due siti diversi uno è audible che si tratta che tratta proprio specificamente dei degli audiolibri e l'altro è amazon music cercatelo perché sono delle cose davvero interessanti oltre esserci tantissima musica anche questa gratuita e poi per finire c'è spotify spotify anche lì tanta musica tante cose alcune molte a pagamento altre invece gratuite io per esempio su spotify ho ascoltato una stupenda ricostruzione della vita di bombi 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 grandissimo e fumettaro con una vita rocambolesca incredibile questa questa serie si intitola cronache dal dopo bomba stupendo ragazzi bombi vabbè non è lui che sta qui a parlare di bombi abbiamo il capitolo fumetti non ne usciamo più io sono un fumettaro qua per esempio sposto a ciò la mia collezione di landoke ne ho due questa è una questa quella è un'altra sono tutte e due dal numero uno al numero cento del numero uno al numero cento e due collezioni perché una mi pareva poco e queste sono alcune cose io qua c'ho tanti voi non vedete il resto della della casa c'ho tantissimi libri e fumetti e questo è tutto ragazzi io vi ringrazio di essere arrivati fino alla fine di questo video di essere arrivati fino alla fine di questa serie anche se temporaneamente quindi vi invito a iscrivervi al canale e cliccare la campanella così quando ricominceremo a fine estate vi arriverà la notifica vi invito a mettere un pollice alto perché aiuta l'algoritmo aiuta del canale e vi invito anche a lasciare un commento perché vi ricordo questa è la chiave il motivo per cui ho aperto questa rubrica è parlare confrontarmi con gli altri dei libri che ho letto perché quando tu leggi un libro quando leggi un libro un'avventura un giallo ok una volta che hai letto il giallo il giallo è proprio l'esempio principale che hai scoperto chi è l'assassino no rileggere quel libro non sarà mai la stessa cosa a meno che non te lo sei scordato questo vuol dire che è un libro di merda però se il libro ti è piaciuto tu non lo dimenticherai mai chi è l'assassino chi è il protagonista quindi anche rileggerlo sì è bello rileggere libri ogni tanto rileggere libri più belli è fantastico rileggerli ma non sarà mai come leggerli per la prima volta non sarà mai vivere conoscere quel personaggio quell'ambiente quel mondo quelle persone quella popolazione che abita quel libro non sarà mai la stessa cosa l'unico modo per tenere un libro vivo dopo che hai chiuso l'ultima pagina e l'hai posato sul tavolo e parlarne parlarne con altri che l'hanno letto confrontarsi scambiare le idee le teorie su quel libro è quello l'unico modo per tenerlo vivo io se faccio questa serie è proprio per questo perché voglio tenere vivi quei personaggi che a cui mi sono affezionato così tanto a cui ho voluto bene e quindi lasciatemi un commento ecco qua io vi ringrazio ancora una volta per essere arrivati fin qua vi mando un bacio e ci vediamo spero dopo l'estate ciao 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 Grazie a tutti